Puoi fare come ti pare, l'importante è che non ti fissi tipo così, a guardare in maniera sua dente lo schermino sotto, capito? Cosa che stiamo facendo precisamente in questo momento, direi che è giunto il momento di aprire le danze. Ben ritrovati amici della flanella, solitamente in questo podcast io intervisto chi la storia la studia prima e poi la scrive sui libri, oggi invece ho l'onore e il piacere di intervistare chi una pagina memorabile di storia del calcio samarinese l'ha scritta sul campo. Capitano Alessandro Golinucci, capitano della nazionale samarinese di calcio, che ho l'onore e il piacere di poter chiamare Goli, perché, spoiler, siamo amici da quando non avevamo un ciuffo di barba. Goli, grazie mille per essere qui e per aver accettato il mio invito. Ciao Giuse e ciao a tutti gli amici di SIF, è un piacere essere da questa parte dello schermo e dei microfoni finalmente. Fantastico, te lo sei meritato perché avete fatto veramente un'impresa, oggi sei qua come Alessandro e come portavoce della tua squadra. Ora, partiamo un attimo dal contesto, in Repubblica chiaramente non si è parlato d'altro, siete finiti sulle testate giornalistiche di Mezzomondo, però per chi ci ascolta diamo un attimo il quadro. Come mai sei qui? Perché hai scritto la storia, cosa è successo? Beh, diciamo che il 18 novembre del 2024 eravamo precisamente in Liechtenstein, siamo scesi in campo con la maglia della nazionale di San Marino ed è arrivata una storica vittoria per 3-1. Tra l'altro abbiamo battuto parecchi record per la maglia della nazionale, tra cui prima vittoria in trasferta, 3 gol in una stessa partita, però la cosa più importante è stato il passaggio del turno di un girone di Nation League, cosa che per la nostra nazionale è una cosa incredibile, storica, esattamente. Ma quindi, se ho ben capito, questo discorso della Nations League è qualcosa di recente, giusto? Sì. Come l'avete vissuto all'interno della squadra? È stato un nuovo modo di vivere la nazionale? Voi siete entrati in campo sempre con la stessa mentalità? Perché comunque il fatto che ci contraddistingue la nostra piccolezza come realtà va a inficiare anche quello che è il nostro bacino di utenze. Siamo chiaramente in pochi e quindi la scelta è sempre tra meno e molte volte vi siete confrontati invece anche con veramente big. La vostra mentalità è cambiata o entrate in campo sempre con lo stesso tipo di spirito? Ma guarda, questa è una domanda bellissima perché ti confermo che la Nations League per noi è stata una manna dal cielo, nel senso che per tanti anni ci siamo dovuti confrontare con le nazionali più forti del mondo ed Europa praticamente. È arrivata da qualche anno questa nuova competizione che ci permette di giocare con delle nazionali che sono del nostro stesso livello circa. Certo. Fino a qualche anno fa erano addirittura ancora più forti di noi. Durante il corso di questi anni, potendoci giocare contro, abbiamo livellato quello che c'era di differenza tra di noi e le altre squadre e siamo arrivati appunto a questa storica impresa che, devo dire che, come mi insegni te, la storia non si è fatta poi quel giorno lì, ma è una storia che parte da tanto prima. Questo è molto molto bello, diciamo quello è stato il risultato che ha suggellato un pochino tutto un percorso, tutto un cammino, immagino anche di sforzi e tanti sacrifici. Però io quello che volevo chiederti, volevo partire da un punto, no? Tu comunque sei lì con la tua bella fascia da capitano e in quel momento ci rappresenti, rappresenti la nazionale e rappresenti la nazione, lo stato di San Marino che abbiamo più volte detto su questo podcast che è uno degli stati più antichi e con una storia veramente incredibile e unica. Come ti senti, Goli? Perché proprio al di là della partita, cosa provi a avere quella fascia e a vestire quella maglia? Guarda Giuse, è una sensazione incredibile, te lo spiego dicendoti che tutte le volte, per esempio quando giochiamo in casa, prima di uscire per l'inizio della partita, scorro, dentro gli spogliatoi ci sono delle foto, delle gigantografie, delle nostre imprese, piccole o grandi che siano. E con la mano vado a toccarle una a una e poi mi porto la mano sul cuore, sullo stemma della nazionale perché in quel momento sento veramente di entrare in campo e andare a giocare per il mio paese. Quindi poi appunto nel nostro stadio appena entri hai l'entrata che dà sul Monte Titano, quindi entri, c'è il campo e nello sfondo il Monte Titano. Quindi è una cosa pazzesca. Da brividi? Sì. No ma mentre lo stai dicendo c'è un po' gli occhi lucidi nel senso che... Perché lo sento, lo sento anche adesso, lo sento. No ma lo vedo perché al di là, al di là, cioè no al di là, oltre all'amicizia appunto c'è proprio il fatto che ci conosciamo da anni e conosco la tua persona, ma questo attaccamento probabilmente da fuori si fa fatica a percepirlo, ma perché sono emozioni che provate voi, no? Però tutta la dinamica che hai descritto con voi che comunque guardate le imprese della nazionale del passato e poi entrate col Monte Titano che è proprio il nostro simbolo perché prima c'era il Titano, cioè c'è la comunità che si è sviluppata attorno al Titano, poi c'è Marino e tutto quello che vogliamo, ma è veramente veramente bellissimo. In questo mi hai... ti ringrazio perché mi hai dato proprio una... Sì, è che non so se l'hanno fatto apposta a costruire lo stadio di modo che si vedesse il monte proprio nell'angolo. E tra l'altro anche tutta la tribuna dove ci sono i nostri tifosi possono vedere noi e il monte, per me è bellissimo. Grazie Goli, non guarderemo le partite più con lo stesso occhio ma con un occhio ancora più emotivo. Ecco, lo sport dovrebbe unire, no? Su questo siamo tutti quanti d'accordo. Assolutamente sì. Lo sapevano già i greci, tu come ben sai perché raccontiamo anche un aneddoto, questa primavera ha ottenuto, autunno, ha ottenuto una lezione di storia delle Olimpiadi per le scuole medie e a un certo punto nel pubblico, sport in fiera, ringraziamo il Cons per la bellissima possibilità, a un certo punto nel pubblico sbuca Capitan Golinucci. Non potevo farmi sfuggire questa cosa. È stato per me bellissimo e durante questa lezione spiegavo un pochino il concetto di tregua olimpica e chicheria, dicevano i greci, cioè questo fatto che le polis durante i giochi olimpici cessavano i loro combattimenti. I greci non erano certamente dei pacifisti, però appunto c'era già questa concezione di uno sport che andasse ad unire. Ora, nonostante San Marino invece abbia tutta una storia di non belligeranza alle spalle, l'ultima guerra di San Marino nel 1462-1663, quindi parliamo di 700 anni fa. Però devo dire che intorno alla nazionale negli ultimi anni c'è stato a volte forse anche un po' di astio, nel senso che probabilmente l'uomo di per sé, dove c'è l'uomo c'è un po' di cattiveria, noi siamo in un piccolo stato quindi è tutto amplificato, però anche su Facebook, commenti, risate, prese in giro, scherni. Ora tu hai 50 presenze più in nazionale, 10 anni vissuti, sei partito magari da quell'ambiente un po' anche astioso diciamo nei vostri riguardi e sei arrivato adesso che siamo tutti sul carro dei vincitori con feste, bandiere e via dicendo. Qual è la tua prospettiva, come hai vissuto tutto questo cambiamento e anche il periodo precedente? Ma guarda, parto dalla fine, cioè da questi giorni qua in cui, sì è vero come hai detto te, tutti vogliono salire sul carro dei vincitori, ma va bene, cioè da un certo lato secondo me ci sta, secondo me è una vittoria che comprende tutti, chi ci ha lavorato e chi non, chi ci ha creduto e chi non, perché sì, come dicevi prima tu, è vero, abbiamo passato anni in cui la nazionale magari era, magari non si vedeva l'ora di parlare male della nazionale, sono scarsi, cosa vanno a fare, perché scendono in campo, questo devo dire che l'ho avvertito, io personalmente più da fuori San Marino, quindi sì, come hai detto bene tu, i social fondamentalmente, purtroppo, croce delizia, sì, più da fuori, anche chiaramente poi ci sono dei rumors interni, quelli non si, certo, ci saranno sempre, anche quando si vince, però nel corso degli anni appunto noi giocatori, chi ha lavorato per la nazionale l'ha fatto non ascoltando quei commenti, per esempio c'era un episodio, mi ricordo della Germania, che aveva appena vinto con noi 13 a 0, dove un giocatore, Muller, famoso giocatore, in un'intervista disse perché San Marino viene a giocare queste partite, ecco, quello un po' personalmente mi toccò, e ancora non ero bene nel giro della nazionale maggiore, ma il mio obiettivo era entrare nella nazionale e dimostrare che noi ci stiamo dentro. Dal mio punto di vista l'uscita di Muller è un po' paragonabile a quello che pochi giorni fa ha detto Elon Musk, citando i giudici italiani, che l'Italia mandia casi sui giudici, cioè è un essere un po' ignoranti, nel senso proprio di ignorare, cioè di non comprendere neanche che cosa sia e che cos'è una nazione. Sono d'accordo. E in questo caso lì credo, insomma, che poi mi pare sia stato messo, sia stato tettito dai più sui social. Sì, anche con striscioni. Abbastanza, sì, anche secondo me legittimi perché doveva essere rimesso al suo posto perché, sì, è vero, si può, chiaramente ognuno può esprimere il suo giudizio, però in quel caso lì ha decisamente fatto un'uscita pessima, anche perché, e mi ricollego a un altro aspetto che secondo me va affrontato, tu giustamente dicevi voi andate a giocare contro la Germania, andate a giocare a Wembley, però la verità, Goli, è che quasi nessuno di voi è un atleta professionista, giusto? Questo è vero. Quindi, come si vive anche da questo punto di vista lo sport? Cioè, immagino, complicato riuscire a combaciare quello che è il lavoro, perché lavorate tutti, con un'attività da non professionisti che però svolgete in ambito professionistico, se vogliamo, o contro professionisti. Sì, questo è un argomento delicato, se così si può dire, è un argomento che anche molti giornalisti da tutto il mondo cercano sempre di ribadire, ma che poi è la realtà, cioè noi non siamo giocatori professionisti, in questo momento abbiamo solo un giocatore che milita in Serie C, che è Nicola Nanni, che ha segnato per due partite di fila, quindi è a tre gol, quindi è uno dei record man della nazionale, quindi ci affidiamo molto a lui e alle sue capacità, però poi tutti gli altri siamo ragazzi, giocatori, che nella vita poi lavorano o studiano, perché un altro aneddoto è che adesso la nazionale è molto giovane, esatto. Quindi rispetto a una volta che ho vissuto anche la nazionale qualche anno fa, erano tutti ragazzi che lavoravano, chi in fabbrica, chi in banca, chi impiegato, eccetera. Adesso ci sono molti giovani che studiano, ma questo non cambia le cose, nel senso che secondo me studiare è al pari di lavorare. Certo, senza ombra di dubbio, anche perché se poi studiano a livello, immagino, universitario, insomma, è effettivamente un lavoro ed è un lavoro più di un part time, è un lavoro assolutamente a tempo pieno, ne sappiamo qualcosa e saranno felici poi i nostri giovani ascoltatori, ce ne sono diversi, ti anticipo, e questo sicuramente sarà un episodio ascoltatissimo e quindi ti ringrazio anche per questo. Ma proprio in merito a questa cosa qua, che ruolo quindi va a rivestire lo sport nella vita di Alessandro Golinucci, lavoratore di giorno e calciatore di sera? È difficile immagino combaciare il tutto e proprio anche da un punto di vista, quando pensi allo sport, quando pensi al calcio, cosa fai? Sorridi? C'ho la periodoca dall'inizio della chiacchierata. Domanda facilissima, cioè lo sport l'ho sempre visto come l'elemento al quale il tutto gira attorno, è un po' come il sole e i pianeti, no? C'è lo sport e poi viene tutto il resto e dici cavolo ma non ti sembra un po' troppo? Forse sì, però se vivi con questa mentalità arrivi per forza a raggiungere certi obiettivi che sono stati come la vittoria della Nations League e quindi vivi ancora con più entusiasmo questa cosa. Dopo c'è l'altro lato della medaglia, secondo me che purtroppo devi lasciare da parte magari certi affetti, certe amicizie e ne parlo soprattutto per i giovani, no? Ci stanno ascoltando. Assolutamente. Quando mi ricordo avevo 14, 15, 16 anni, dovevi scegliere se andare a dormire presto oppure fare tardi la sera con gli amici. Quindi la scelta controcorrente era andare a dormire presto, però poi siamo qua. Direi che ha pagato, non per la chiacchierata che stai facendo in questi nostri studi, anche se è da mettere a curriculum, sappilo che entrare qui dentro insomma è un tassello fondamentale. Sono onorato, sono onorato. No, sto scherzando e mi ricollego a questo Goli perché secondo me è molto interessante. Io sto iniziando a un pochino lanciare queste interviste a intanto persone che stimo e che penso possano raccontare qualcosa di utile anche per le nuove generazioni. E circa quello che hai detto, cioè questo discorso bilanciamento tra motivazione e disciplina, no? Secondo me è anche un po' sfatare il mito, forse poi mi dirai se la pensi come me, della motivazione. Cioè la motivazione va bene, funziona, ma poi a un certo punto per arrivare a risultato, che sia la scuola, l'università, la ricerca o lo sport, credo la componente di disciplina sia fondamentale. Assolutamente sì. E sulla componente di disciplina arriva la prossima domanda perché, Goli, non ci possiamo nascondere dietro un dito. Hai 30 anni, ma hai un fisico incredibile, corri nel campo come un ragazzino, la destra e manca, quattro polmoni, sembra a servizio della squadra. Sul correre sono d'accordo, ancora do del figo da torcere ai ragazzini che stanno arrivando. Ok, quindi... Quindi non posso dire di no. Ci deve essere un segreto perché sai, io vengo da un mondo diverso, io vivo duemila anni fa con la testa e poi ogni tanto mi catapulto nel presente. Esatto, quindi se devo dire come si allenavano i greci, ti posso citare un aneddoto di questo Milone di Crotone che era un atleta straordinario, ci dicono le fonti come ha fatto a crescere, come ha fatto a crescere il suo fisico. È una sorta di overloading progressivo antelitteram, nel senso che le fonti, questo un po' tardi, ci raccontano che Milone si portava un vitellino sulle spalle tutti i giorni. Il vitellino cresceva e col vitellino chiaramente cresceva la sua forza. Si allenava sempre di più. Fino a che è diventata una bestia incredibile, ha vinto diverse Olimpiadi. Questo era Milone di Crotone, 2500 anni fa. Oggi Alessandro Golenucci, come si allena? Allora, secondo me, nella mia esperienza personale, l'elemento fondamentale è stato seguire le orme di mio fratello. Ok. Quindi... Perché, scusa, parentesi, qui c'è una storia familiare anche meravigliosa. Allora, se vuoi puoi rispondere alla domanda, ma poi la storia di Terry la tiriamo fuori perché è bellissimo. Assolutamente sì. No, a parte che condivido con Henry la maglia della nazionale, che quindi... Cioè, la gioia di giocare per la nazionale in più farlo come il fratello. Cosa ti devo dire di più? Questa è la meraviglia di San Marino, eh? È l'essere un po' piccolini e avere queste possibilità straordinarie. Bellissimo. Assolutamente sì. E per quanto riguarda il discorso di prima, appunto, è seguire le sue orme, nel senso che è stato sempre un esempio per me, mio fratello. E il fatto di voler fare ancora di più di lui, no? Una sorta di voler dimostrare che sono più bravo io, ma in senso buono. Certo. Mi ha portato poi nel tempo a rimanere sempre in quella strada senza... Deviare. Esatto. E quindi questo, penso, sia stato l'elemento principale, ecco, il tocco magico di questa storia. Ok, quindi una... Diciamo il valore dello sport, in questo caso visto come una sana competizione. Sì, assolutamente sì. Dopo ci vuole chiaramente anche della malattia mentale, nel senso che... Certo, positivo. Sì, sì. La voglia di allenarsi è tanta. Ti alleni a calcio, ai giorni che non ti alleni, vai in palestra, vai a fare una corsa, qualsiasi sport che si possa fare si fa e che non ci si ferma mai, non c'è mai un giorno di stop, è raro, ecco. No, è molto bello in realtà il quadro che dai ed è anche un quadro, secondo me, che è estremamente positivo, nel senso che chi ti ascolta capisce che ci sono delle qualità naturali, senza altro, con cui uno è nato, no? Però c'è anche veramente il fatto che probabilmente sei lì perché ti sei allenato di più dell'80-90% di altri che potevano farcela. Ti dico, per quanto riguarda appunto il mio percorso, sì, assolutamente. Ci sono tanti ragazzi che hanno qualità incredibili. Io non ho quelle qualità nel calcio, però le ho raggiunte con tanto lavoro e tanta volontà. Ecco, tutto qua. Tutto qua ma non è poco, non è un tutto qua da dire. Adesso posso dire. Esatto, esatto. Ma, ascolta, Goli, abbiamo parlato un pochino del passato di questa nazionale che comunque è giovane, no? E arriva a questa vittoria trascendentale dopo una trentina d'anni di storia per la nazionale di San Marino, no? C'era una prima partita nel 1990, stavo controlando prima contro la Svizzera. Ma guardando un po', facendo una cosa che noi storici non possiamo fare, quindi mi piace che per questo invitare gente dall'esterno, noi lo possiamo fare ma te puoi fare, guardando un pochino al futuro, no? Chiaramente il bacino d'utenza rimarrà un pochino quello perché il nostro numero è quello, siamo a 30.000 anime. però c'è qualcosa secondo te che si potrebbe fare, verso quali direttive si può muovere San Marino per crescere ancora di più e per migliorare anche la mentalità dei giovani che vogliono approcciarsi allo sport? Sì, guarda, come dici tu, allora ci vorrebbe la bacchetta magica per far vincere tutte le partite a San Marino, non ce l'abbiamo, quindi ci limitiamo a lavorare secondo me sui giovani, la nostra nazionale come hai ben detto è piena di giovani ma di qualità, che quindi sono cresciuti bene, che riescono a giocare a calcio bene, che hanno mentalità e vogliono giocare a calcio e i risultati che sono arrivati sono per merito anche loro. Poi secondo me si può sempre migliorare, anzi dobbiamo migliorare ancora di più, per farlo non ho una risposta ben precisa, sempre comunque lavorare sui giovani, i bambini che adesso stanno giocando nelle prime scuole calcio, dargli delle opportunità che magari quando noi eravamo piccoli che non giocavamo insieme non avevamo, penso sia questo poi il punto fondamentale. E su questo è interessante anche da un punto di vista diciamo più politico, si sta cercando di muovere tutto un filone che cerca di unire la scuola e lo sport, cioè agevolare in qualche maniera o comunque riconoscere la difficoltà di portare avanti una carriera sportiva anche a, tu dicevi nazionale maggiore ma chiaramente sono nazionali giovanili e quindi anche tutti i ragazzi che fanno vita da atleti già a 16-17 anni qua, bisogna essere secondo me molto molto lungimiranti anche da un punto di vista statale. Assolutamente, dopo a me per esempio mi ha aiutato il fatto di, cioè quelle esperienze che tu fai a livello giovanile, la nazionale da 17 eccetera, ti lasciano delle emozioni che vuoi sempre di più. La sfiori e dici continuo. La fame viene mangiando, ecco. Ok, è ottimo, è ottima come metafora. Guarda Goli, io per lasciarti ti chiedo, noi qua comunque ci occupiamo di storia quindi non posso fare a meno, abbiamo iniziato a fare questo esperimento in cui devi immaginare di avere una macchina del tempo, però siccome ancora abbiamo dei fondi abbastanza risicati in questa macchina del tempo, insomma, non può viaggiare tanto indietro. Quindi, abbiamo 10-15 anni, che cosa direbbe l'Alessandro Golinucci di oggi, capitano della nazionale, all'Alessandro Golinucci di 15 anni fa, ragazzino che muoveva i primi passi nella squadra della nazionale nell'Andre 17? Guarda, penso sia la domanda più difficile. L'abbiamo lasciata alla fine apposta. E' proprio quella per la lode, per il resto c'è andato da Dio. Ci devo pensare un attimo, impulsivamente, ti direi, mi direi all'Alessandro bambino, bravo, cazzo, bravo, però continua a correre, questo è quello che gli direi. Continua a correre, nonostante quello che magari fossero, nonostante quelli che siano stati i rumors fuori, che potessero essere le critiche, che potessero essere le difficoltà, continua a correre. Penso sia questo, perché poi lo dice anche la storia, non bisogna mai fermarsi. Io non trovo parole migliori per concludere questa intervista. Intanto ti ringrazio molto, perché sei stato il primo ospite extra storico a Storia in Flanella. Ripeto, sono super onorato. Però penso che sia una puntata fondamentale. Questa è molto fresca, è quasi più giornalistica, però visto il legame, visto anche il fatto che tutti scrivevano, si è fatta la storia, si è fatta la storia, ci tocca raccontarla, sta storia. Assolutamente sì. Credo sia stato molto, molto importante averti ai nostri microfoni e averti reso parte di quello che è il progetto di raccontare un po' la storia del nostro piccolo stato in tutte le sue sfaccettature. Quindi davvero, davvero grazie. Sono io a ringraziarti e vorrei fare un saluto agli amici di SIF. Fino al prossimo gol, saluti. Oh, mi hai colto in preparato, mi hai anticipato il finale. Bellissimo. Grazie Goli. Grazie a te. Storia in Flanella è un podcast di Giuseppe Giardi. Le riprese, il montaggio video e il lavoro grafico sono di Luca Zucchi. Il lavoro di ricerca sulle fonti è di Giuseppe Giardi e Marco Bernucci. I testi sono di Giuseppe Giardi. Tutta la redazione di Storia in Flanella ti ringrazia per l'ascolto. E fino alla prossima. Salute.